Si vedono le montagne distrutte nella statale 195, Eden Rock, Capo Blu. Non si capisce la causa dell'incendio. Le prime voci pare che sia un problema di un barbecue andato fuori controllo e sta causando danni irrimediabili. Montagne, ettari, 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 di montagna bruciata. Adesso il fuoco sta scendendo anche in pianura verso la strada. Vigili del fuoco, protezioni civile, baracelli di tutto e di più per cercare Canadair, per cercare di domare questa furia che si sta sviluppando sulle nostre montagne. Perché a sedo online per il momento è tutto.